Ragazzi, guardate che fuma fuma gargantuesco. Eh sì, capita spesso che una pista ramata sfumacchia in questo modo e quindi? Dobbiamo buttare via la scheda? No, è facilmente riparabile se non sono schioppati altri componenti oppure se la causa di quel danno non è da attribuire a un malfunzionamento generale. Estratto da un mio video sul mio canale YouTube sulle riparazioni fai da te che riguardano la brasatura stagno. Ma come si procede? Prendete un cavetto di rame che abbia almeno la sezione simile a quella della pista e tagliate in un pezzo della giusta misura. Il cavo è certamente la soluzione più semplice, più efficace, più veloce, ma quella meno professionale. Tagliate il cavo poi stagnate le due estremità. Adesso potete stagnare le due capi dove è stata interrotta la pista. Intervento semplice per un tecnico ma anche per te che guardi Spongebob. Dopotutto, anche questa è fumeria.